A posto. Pioggia sopra, vasca sotto, la non edizione del trofeo baldesio nuoto master si conferma più forte del maltempo. Le precipitazioni non spaventano i partecipanti che nella due giorni di gare del weekend solcano i 50 metri dell'olimpionica con classe e una passione senza età. La soddisfazione della canottieri baldesio e del suo settore nuoto è tutta nelle parole del responsabile dell'organizzazione e anima del trofeo, Paolo Morabito. Allora, siamo molto contenti per la canottieri baldesio perché il mondo master ha risposto ancora una volta a uno dei trofei più belli d'Italia, come è stato messo nelle riviste di tutti gli anni. Abbiamo 93 società iscritte, 10 regioni da tutta Italia e tantissimi campioni, anche i campioni del mondo, i record mondiali. Qualità dei partecipanti, unità quantità dei nuotatori, una valanga alle adesioni per il nono trofeo baldesio nuoto master che ha animato la storica canottieri cremonese in questo weekend. Ci sono 850 atleti iscritti per 1550 gare e un centinaio di staffette, quindi è come al solito un successo. Il maltempo non è un problema perché tanto i nuotatori acqua sopra, acqua sotto è indifferente. E parte questa...